Oggi facciamo una lasagna, lasagna modenese, lasagna con formaggio e prosciutto cotto perché in questo periodo avranno il mare e poi passano al forno le lasagne. Abbiamo fatto la besciamella, guardate così, avete visto, c'è il video che deve fare la besciamella, bella sciolta così, e ci mettiamo sotto la besciamella così. Ecco, bella abbondante perché la pasta della lasagna fatta all'uovo ce la mettiamo noi cruda, perché non c'è bisogno di cuocere un pochettino, quella secca, guardate, e l'abbiamo rifelata quant'è la teglia, la foglia della lasagna abbiamo rifelata quant'è la teglia. A questo punto, guardate, mettiamo di nuovo la besciamella abbondante e nelle angoli di più, nell'angolo così abbondante, che serve per cuocere pure la pasta della lasagna. Prendiamo il formaggio, l'altro, che prendiamo il formaggio, così, formaggio quello che volete mettere, che mettete, ripropola, viscero, olandese, insomma, quello che volete mettere, guardate, prosciutto cotto così, no? Vedete, vedete, ancora un pochettino, così, un pochettino, così, un pochettino cotto, ecco, così, e il formaggio. Noi usiamo asiaco, poi quello che volete mettere, quello che volete mettere voi, che mettete, svizzero, olandese, insomma, provola, quello che volete, così. A questo punto, guardate, ci mettiamo di nuovo un pochettino di masciamella, così, no? Vedete? Ecco, così, formaggio, formaggio sopra, così, ecco. Dopo, di nuovo, la lasagna, così, ecco, e adesso mettiamo il prosciutto e il formaggio, quando è completo vi faccio vedere ancora un passaggio, lasciatemi e ci vediamo dopo. E allora, vedete? Abbiamo fatto i strati come abbiamo fatto prima, l'ultimo strato, ci mettiamo solo la pasta, così, e sopra non ci mettiamo niente, sennò si brucia tutto. Ci mettiamo solo la basciamella, così, no? Bella abbondante, perché deve cuocere poi la pasta, e questa è una delle lasagne modenese, con prosciutto e formaggio, guardate, così, bella, piena di basciamella, così, e adesso questo di qua ce la mettiamo mettiamo pure qua, che sono quelle che abbiamo detto, così, ecco qua, mettiamo ancora questo, così, e formaggio. A questo punto, il forno pre-costo prima, il forno pre-costo prima, 180 gradi ventilato, 180 gradi ventilato, è circa 30 minuti, ora è il tempo che mi lavori le mani, e lo mettiamo al forno, così, abbiamo il forno, così, ecco, la mettiamo al forno, e quando è cotta, vi faccio vedere molti modi i passaggi, adesso andiamo e ci vediamo dopo. E allora, e allora, e allora dai, e allora dai, che ce la fai? Dopo 30 minuti, la pasta è cotta, è pronta, guardate, qua, se non mangiungerai con te, io lo faccio, guardate, così, guardate, giustamente, siccome è cotta, o la possiamo tagliare e metterla nel piatto, guardate, però noi facciamo così, la prepariamo così, e questa è la lasagna modenese, con prodotto cotto e formaggio, perché giustamente se ne vanno a mare, se ne vanno a mare, allora, se ci vogliono queste cose, metterla ghiacciata, un ghiacciato, un ghiaccio, un sacco, un petro e tutto, come? La lasagna modenese è pronta, è pezzata, bene che a tutto lo sogniamo.